Oroscopo del giorno, martedì 28 febbraio 2017. Ariete. Lavoro. Toro. Amore. Gli amici single potrebbero essere messi di fronte ad una scelta, meglio riflettere prima di agire impulsivamente. Lavoro, oggi qualcuno potrebbe criticarvi o magari scherzare pesantemente. Non ve la prendete, se dovete collaborare meglio riderci su. Cancro. Amore, pensate che la vostra storia sia arrivata al capolinea? Per molte coppie oggi sarà un giorno di separazioni, inutile portare avanti un rapporto ormai logoro, cambiate strada. I single oggi potranno conquistare nuove amicizie e attrarre con la loro spontaneità. Lavoro, se avete in mente di iniziare un attività oggi è un giorno favorevole. Lasciate da parte le contrarietà personali e portate avanti il vostro progetto. Leone. Amore, rinnovate il vostro rapporto e non permettete che la noia lo trasformi in una routine continua. Fate di tutto per tenervi stretta la persona amata, qualcuno potrebbe portarvela via. Per i single si preannuncia una giornata luminosa, rilassatevi e godetevela. Lavoro, un imprevisto o un piccolo screzio farà avanzare qualche critica da un collega nei vostri confronti. Non fatevene un problema, impegnatevi nel vostro lavoro. Virgine. Amore, lamore non è proprio alle stelle ma i rapporti solidi non hanno bisogno di tante parole. Chi è in coppia da poco dovrà invece guardarsi le spalle. Nuove persone si affacceranno nella vita dei single che conosceranno gente su cui poter contare. Lavoro, una sgradita sorpresa da parte di chi non vi aspettate vi lascerà senza parole. Diffidate di chi si reputa amico e abbiate più fiducia in voi stessi. Bilancia. Amore, passate più tempo con la persona amata, da un po di tempo siete troppo distratti. Non è che avete rivolto la vostra attenzione da qualche altra parte. I single oggi potranno concedersi una pausa dopo tanti giorni di stress e potranno trascorrere una piacevole serata in famiglia. Scorpione. Amore. Prendete tempo su una storia su cui ancora non avete le idee ben chiare. Da un lato vorreste fuggire, dallaltro vi piacerebbe restare. Ma prima o poi dovrete scegliere da che parte stare. I single potranno veder passare sotto il naso lamore senza accorgersene. Lavoro, buone probabilità di risolvere una questione a cui tenete molto. Riceverete inviti e proposte di lavoro interessanti, non avete che da scegliere. Sagittario. Amore, una scelta in amore vi metterà in difficoltà. Fate attenzione, decidete per il meglio e non chiedete consiglio ad alcuno, ascoltate solo il vostro cuore. Incontri interessanti per i single che avranno molte occasioni per divertirsi. Possibile una gita fuori porta. Lavoro, lottate per ciò che desiderate e cercate di concretizzare. Avete la soluzione a portata di mano, non avete bisogno di guardare lontano. Capricorno. Amore, forse non è detta lultima parola, una speranza di recuperare un rapporto si profila allorizzonte. Dovete però accertarvi che dallaltro ci sia la stessa intenzione. I single oggi avranno voglia di cambiamenti e dovranno liberarsi del vecchio per il nuovo. Lavoro, chiarite ogni equivoco su una situazione incresciosa. Dimostrate la verità per riabilitarvi agli occhi dei superiori e sgombrate così ogni dubbio. Acquario. Amore, state attenti ad una persona che vuole creare scompiglio nella vostra vita privata. Se siete in coppia attenti anche alla gelosia e alle invidie. Per i single è un giorno importante e una nuova conoscenza potrebbe fare breccia nel loro cuore. Lavoro, se volete raggiungere i vostri obiettivi dovete impegnarvi ancora di più. Non desistete e un piccolo colpo di fortuna potrebbe accelerare i vostri progetti. Pesci. Amore, liberatevi da alcune emozioni negative che vi impediscono di aprire il cuore al partner. Lasciatevi alle spalle il passato e curate di più il vostro rapporto. Nuovi progetti sono in arrivo per i single che potranno prendere liniziativa e cominciare una nuova relazione. Lavoro, non lasciate nulla al caso e curate ogni dettaglio se volete che un vostro progetto giunga al termine. Favoriti chi vuole iniziare un'attività autonoma. Se il video ti è piaciuto metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Grazie a tutti.